Buonasera, buonasera a tutti. Facciamo un video quest'oggi, un po' di riflessione con voi, di un altro caso di cronaca che vede dopo tanto tempo una evoluzione. Giovedì prossimo ci sarà la prima udienza che deciderà se Antonio Tizzani, marito della compianta Gianna del Gaudio, dovrà o no andare a processo per omicidio volontario della moglie. Ovviamente qui si va da un esgastolo ad un proscioglimento. Chi ha seguito sa la vicenda, non è qui il caso di percorrere tutte le tappe. Però, quelle significative senz'altro. Questa professoressa fu uccisa con una sola coltellata alla gola, una sera d'estate, nella casa sua, dove si trovava con il marito, Antonio Tizzani, poco dopo che era terminata una cena, alla quale aveva partecipato anche un figlio con la moglie. E durante questa cena, niente di clamoroso sembra che sia avvenuto. L'Antonio Tizzani dice che mentre lui era uscito fuori ad annaffiare le piante, poi era rientrato e aveva visto questo fantomatico uomo incappucciato che aveva coltellato a morte la moglie e poi, non so, frugava nella borsa, cercava, scappava. Ora, vedete, io mi meraviglio che sia passato tanto tempo, e tanto tempo ci sia voluto per decidere le sorti di quest'uomo, perché qui, vero è che non è che ci stanno prove schiaccianti, ma tutte le prove necessarie ci sono. Innanzitutto è emerso un passato di violenza da parte di quest'uomo sulla moglie, devastazione, questo come substrato sul quale ragionare, e non solo violenze, ma anche supposte gelosie, in particolare verso un collega della moglie che negli ultimi tempi, prima che andava in pensione, la accompagnava, la signora, essendo la stessa, priva di automobile. e c'era questa sorta di gelosia. Ora, cosa era avvenuto, come episodio scatenante di questa follia, che nell'ultima cosiddetta vacanza fatta ad Avellino, la signora Gianna Del Gaudio, come solito, come era solito fare, aveva comprato tanti di quei regali e regalini un po' a tutti, conoscenti, amici, colleghe, e ne aveva comprato anche un orologio per questo amico che l'aveva tante volte accompagnato. E per fare questo acquisto, non avevo usato la carta prepagata del marito, ma la sua, proprio per evitare di dover dar conto di questa cosa qui, conoscendo bene il marito. Evidentemente questa cosa, in qualche modo, è venuta alla conoscenza dell'Antonio Tizzani, che ha covato, diciamo, ha covato un po', diciamo, una sorta di vendetta, non lo so, una sorta di disonore, presunto, supposto, da parte sua. Ed allora, quella sera, evidentemente, dopo aver infacciato certe cose, dopo un breve alterco, ha sferrato questa coltellata unica alla gola, mortale, perché la signora è morta, distanguata, nel giro di qualche minuto, senza avere nemmeno la forza di ribellarsi. I vicini di casa hanno sentito, ci sono testimonianze, questo alterco durato pochi minuti, in cui c'era una voce prevalente maschile, quella dell'Antonio, e quella femminile che, vabbè, non si capiva bene cosa dicesse. E poi un ultimo grido del marito, in cui diceva, ma perché l'hai fatto, perché l'hai fatto, evidentemente, come, secondo me, riferito a questo regalo, a questa attenzione, per questo amico, che gli ha fatto andare il sangue al cervello. Poi, tutto quello che è successo dopo, fa parte un po' del depistaggio, di una persona, sì, intelligente di base, ma molto ignorante, è un'intelligenza, diciamo, contadina, se vogliamo dire, non un'intelligenza di tipo sofisticato. Tanto è vero, che che cosa fa? Si mette a pulire le tracce per casa, le tracce di sangue, e vada bene, però, a non sporcarsi i piedi, le mani, per soccorzare, diciamo, presuntivamente, la moglie. Quindi, quando gli è stata contestata, dire, ma tu, come mai non avevi alcuna macchia di sangue addosso? Non ti sei precipitata a vedere se potevi salvare questa tua moglie? E no, e lui gli disse, no, io sono rimasto così, impietrito, scioccato. Però, poi, sono state trovate tracce di pulitura, un po' dappertutto, come se si dovesse pensare che questo famoso incappucciato, dopo aver fatto questo, prima di scappare via, avesse avuto, diciamo, forse un po' di tempo per mettersi un po' e fare un po' di pulizie di questo sangue schizzato. Assurdo. Assurdo, come la stessa teoria dell'incappucciato, che egli non è che si era inventato, aveva mutuato, aveva fatto ispirazione dalla nuva che tempo prima aveva lamentato al marito, quindi al figlio dell'Antonio Tizzani, che di sera ci stava un uomo incappucciato che veniva citofonato in a bussare e scappava ed egli aveva paura. Allora, l'Antonio, traendo ispirazione da questo fatto qua, dice, c'era l'uomo incappucciato. poi è venuto fuori successivamente che la nuva messa alle strette dalla polizia dice, io in effetti mi sono inventato tutto, non esiste nessun uomo incappucciato, io avevo, dicevo questo a mio marito solo perché avevo paura di stare solo alla sera e quindi dicendo questo magari ottenevo che lui rientrasse, tornasse prima a casa. Quindi cade questa teoria dell'uomo incappucciato. Poi, le stesse dichiarazioni dell'Antonio Rizzani alla stampa in cui dice, beh, tutti sono venuti a farmi le condoglianze, tutti sono venuti qui tranne uno, chissà come mai non è venuto, buttando involontariamente la colpa su questo amico, diciamo, della moglie, questo collega che gli dava il passaggio. È una cosa stupida, una cosa veramente stupida perché prima parli dell'uomo incappucciato, le mani nere, le mani bianche, un uomo scuro e poi fai altre illazioni. Poi anche questo famoso sacchetto in effetti ebbe poco tempo a disposizione però giusto il tempo di passare per i garage e fare alcune centinaia di metri non so se sono tre, quattrocento, cinquecento metri arrivare in questa siepe dove mise il cutter in una bussa quale bussa poi? La bussa delle mozzarella che stava a casa sua. Cioè egli prese il cutter insanguinato lo messo nella bussa delle mozzarella che avevano mangiato quella sera e in verità fu ritrovato anche un paio di guanti con un altro DNA ma questo paio di guanti evidentemente poteva anche essere stato usato da qualcun altro per altri lavori e quindi poi essere stato usato da lui ma anche lui potrebbe anche averlo preso e messo nella nella bussa giusto per confondere un po' le idee ma fatto sa che il suo DNA è venuto fuori su questo cutter insanguinato quindi la sua mano ha toccato il cutter insanguinato del sangue della moglie quindi più prova di questa e se lui non avesse toccato nullo visto nullo fatto nulla avrebbero trovato il cutter insanguinato senza le tracce del suo DNA mi pare logico ma poi dove lo trovi lo trovi nella bussa delle mozzarella che tu hai mangiato quella sera ma quindi vedete l'intelligenza contadina poi alla fine è limitata perché se tu devi far sparire un'arma anche un coltello ma meglio che devo dire seppellirlo sotto anche pochi centimetri di tesena non andarla a mettere in una siepe dove voglio dire prima o poi può saltare fuori perché uno la va a potare la va a vedere la mette in una siepe capisco che non c'è la lucidità in questo momento ma poi dove lo vai a nascondere lo vai a nascondere nella bussa delle mozzarella di casa tua perché è stato provato che la bussa era quella delle mozzarella che quella sera proprio quella sera avevano mangiato a casa loro quindi più prova di questa qual è? la signora Gianna del Gaudio non aveva sicuramente alcun tipo di nemicizie con alcune quindi era ben voluta da tutti ma poi è nella dinamica dell'azione omicidiaria che è una dinamica violenta ed improvvisa come un gesto di stizza un gesto improvviso un gesto improvviso che fatto senza forse senza nemmeno voler attivare a tanto senza nemmeno tutta quella premeditazione quindi io credo credo per questo motivo che il giovedì non vi possa essere un'alternativa al fatto dell'invio a giudizio l'invio a giudizio è inevitabile perché non vi sono altri motivi altri personaggi che potessero avere in alcun modo un odio un interesse un qualcosa e quindi cosa manca? manca una foto un video e il video appunto che non è stato mai trovato perché poi nelle telecamere delle vicinanze dei vicini che sono stati setacciati nessuno è stato visto né entrare né uscire dalla casa dell'Antonio di Zania di Gianna del Gaudio questo famoso incappucciato ma si doveva vedere che poi usciva e prendeva qualche strada non c'è non esiste non c'era se non nella sua fantasia e poi egli che dà tutte queste versioni di tipo contraddittorio perché prima mentre stava fuori poi ha sentito il tumore poi ha visto che questo uomo stava accovacciato no poi l'ha visto che stava frugando nella borsa immaginate la cosa comica uno uccide in quel modo violente e poi si mette a cercare nella borsa qualcosa da rubare e poi si mette in cucina a pulire le macchie di sangue da vicino ai muri insomma ma mi sembra una cosa comica poi e chiudo perché mi sono dilungato altra prova provata e il sangue di Gian del Gaudio questa è ancora una prova ancora più probante il sangue nel condotto di scarico del lavandino dove egli egli cioè il l'assassino si è lavato le mani ma immaginate questo assassino che poi scappa subito via no prima pulisce cerca poi giustamente va in bagno magari fa i suoi bisognini pure poi si lava le mani si mette un po' di profumo e se ne va e no sei stato tu caro Antonio Tizzani che dopo fatto questo con un'intelligenza contadina un po' presto a poco hai cercato di togliere le macchie ti sei lavato le mani nel lavandino dove hanno trovato il sangue di tua moglie e poi hai chiamato i carabinieri o non lo so se quella sera o il giorno dopo hai preso questo carattere messo nella busta delle mozzarelle poi con un guanto che chissà sei trovato per terra pura o già stavo in casa l'hai infizzato dentro e l'hai messo in una siepe a pochi centinaia di metri da casa questo è come dire essere preso in giro da una persona che si pensa che crede di essere intelligente ma non è altro che un ex padre padrone lo era con i figli un ex marito padrone che è stato con la moglie poi quella donna che non ha sempre subito questo è emerso in tante testimonianze anche delle amiche delle insegnanti colleghe quindi una donna che ha sempre soppostato per una vita sana una vita specchiata specchiatissima e che subive le angherie di quest'uomo che evidentemente e negli ultimi tempi sentiva chissà che la situazione gli era un po' sfuggita di mano e quindi si è vendicato insomma che questa sua proprietà insomma avesse fatto qualcosa senza chiedere il suo permesso e quindi questi personaggi qua meritano di finire gli anni in prigione perché poi sono più stupidi di quello che essi stessi credono vedremo come andrà a finire giovedì prossimo un saluto a tutti iscrivetevi al canale ciao grazie a tutti